Emanuele, le vostre scuole, le vostre sedi, dove sono? Noi abbiamo 10 sedi distribuite tra Roma, Frosinone e i Castelli Romani. È possibile contattarci ovviamente sul nostro sito web, scuolitalianadifesapersonale.com o anche tramite la nostra pagina Facebook, CDP Scuola Italiana Difesa Personale. Dicevamo prima che la vostra scuola forma non solo per la difesa personale, letterale, ma anche per migliorarsi dentro, per combattere se stessi, ma anche per migliorare il proprio fisico. Qui abbiamo Luca, buonasera Luca, che mostra un miglioramento del fisico. Sì, diciamo che il miglioramento è multidimensionale, noi miglioriamo il corpo, la mente e lo spirito. Benz sana, incorpore sano, andiamo anche alla Grecia. Giustamente, perfetto. Quindi ecco Emanuele, Luca volevi dire qualcosa, da quanti anni pratichi questa arte marziale? Io pratico questa disciplina, beh io vengo dalla kick, dal type box, dal taekwondo. Mi sono approcciato a Winchun diversi anni fa, lo pratico costantemente tutti i giorni per diverse ore al giorno, che poi diventa una pratica costante perché ti dà beneficio continuamente in ogni cosa che facciamo. Cosa ti ha tratto di questo tipo di arte marziale rispetto alle altre? Cosa ha di più? La differenza che ho trovato attraverso questa arte marziale è lo studio dei principi del corpo umano, che riusciamo a gestire attraverso il praticamento, la forza spirale, un percorso interno che è meraviglioso, dove riusciamo a scoprire la nostra vera armonia e il nostro benestare con noi stessi, è la cosa più importante oggi. Emanuele, dicevamo appunto delle vostre sedi, come il sito internet l'abbiamo detto, lo vogliamo ripetere. Esatto, è scuolaitalianadifesapersonale.com. Come diceva giustamente Luca, prestiamo particolare attenzione allo studio e all'affinamento dei principi del corpo, dei principi fisiologici, oltre che poi spirituali che sono alla base della pratica. E quello che facciamo, in perfetta armonia con la frase che ci piace riportare e fare nostra di Sun Tzu, che trovate riportata anche qui, ovvero non contare sul mancato arrivo del nemico, ma fai affidamento sulla capacità di affrontarlo. Per nemico, come abbiamo detto... Dall'arte della guerra. Esatto, arte della guerra di Sun Tzu, il primo stratega di cui si abbia notizia scritta. Quel che facciamo quindi è riportare sul substrato, dato dal Winchun, dai principi del Winchun, tutto ciò che può essere oggi attualmente utilizzato nell'ambito del combattimento e della difesa personale. Quindi, accanto al lavoro a mani nude, implementiamo anche il lavoro con armi contundenti e da taglio e per chi vuole, per i operatori della sicurezza o per chi abbia esigenze specifiche, anche studio delle armi da fuoco in assetto tattico. Lo possiamo dire che il vostro istruttore, mi dicevi, in questo momento è occupato proprio perché sta tenendo... Esattamente il nostro maestro, il signor Francesco Procaccini, non è ancora con noi proprio perché sta terminando di svolgere una lezione di tiro tattico al poligono con degli allievi avanzati. Quindi ci raggiungerà quanto prima e sarà un piacere poter avere anche la sua visione su quel che facciamo. Luca, dopo ci farete dei combattimenti di esibizione? Come no, volentieri, per far vedere la qualità del nostro sistema e quello che tutti quanti possono imparare venendo a praticare i nostri corsi.